Sulla complessa situazione di pesante conflittualità fra tassisti per quanto riguarda il servizio nell'aeroporto d'Abruzzo, Confartigianato ha incontrato la stampa per spiegare la propria posizione e quella dell'associato Consorzio Cometa al centro delle accese polemiche che la contrappongono alle altre organizzazioni. Dopo gli sgradevoli episodi dello scalo d'Abruzzo, dove tassisti sono anche venuti alle mani, è necessario tentare di affrontare il problema in un tavolo di conciliazione e concertazione. All'incontro è partecipato il presidente nazionale di Confartigianato Taxi, Alessandro Nordio. Gli ambiti aeroportuali vanno in qualche modo integrati tra tutti i comuni che hanno relazioni di traffico con i poli della mobilità. In questa ottica la legge è subentrata ai poteri dei comuni fin dal 1997, proprio perché ha riconosciuto questa necessità di integrare le varie realtà locali. Da questo punto di vista in tutta Italia le esperienze sono state significative e hanno portato a risultati ottimi sia per l'utenza che per gli operatori. Riteniamo che anche a livello di Abruzzo la strada per seguire sia quella di costruire dei tavoli di confronto e alla luce della normativa e della legge e delle sue prescrizioni costruire un accordo che sia utile per gli utenti prima di tutto, ma anche per gli operatori. Lo stesso presidente ha illustrato l'esperienza della Regione Veneto che dal 1996 ha avviato un servizio regionale di radio taxi con numero unico ed è su questa base che intende proporre un accordo anche il presidente di confartigianato Taxi Abruzzo, Luigi Colalongo, che ascoltiamo insieme al presidente del consorzio Cometa, Pino Morrillo. Auspico che la categoria tutta, compresa i colleghi di Pescara, si arrivi ad un tavolo di concertazione dove vengano trovate delle regole condivise tra tutti, soprattutto anche dalle istituzioni. In particolar modo il comune di Pescara che dovrebbe rendersi conto che in effetti tale servizio presso l'aeroporto condiviso va a vantaggio soprattutto dell'utenza. Anche i cittadini utenti sono intervenuti in questa ingarbugliata vicenda e Franco Venni, presidente di Arco Consumatori, critica le istituzioni. La responsabilità della politica che non impone una strategia di intermodalità, cioè è qui il punto. Io devo sapere, grosso modo, se mi sposto da una parte all'altra, arrivo a Pescara, cosa posso arrivare, come faccio ad arrivare in un certo posto, a che ora posso tornare, se mi conviene prendere un taxi oppure un'altra cosa. Ma se mi sparano cifre assurde, è chiaro che mi limito soltanto all'autobus o addirittura a venire direttamente con la macchina perché faccio meno fatica.